La Conferenza dei Servizi Speciale ha approvato il progetto definitivo esecutivo per il restauro, il riuso adattivo ed agguamento funzionale dell'ex Collegio Ravasco elaborato dall'ASL di Teramo. Si tratta dell'edificio di proprietà della ASL fortemente danneggiato dal sisma del centro Italia del 2016, classificato inagibile con esito di tipo E, situato in Viale Cavour. I lavori dall'importo complessivo di 3,7 milioni di euro prenderanno il via dopo l'atto formale di approvazione del progetto definitivo esecutivo da parte della ASL e lo svolgimento della relativa gara di appalto. La durata dell'intervento sarà di 24 mesi. È un progetto ambizioso che riporta per la realizzazione di un nuovo hospice una struttura sanitaria importante e con dei risvolti sociali molto importanti portata al centro di Teramo. Segno che questa azienda vuole riportare le attività in centro. Appena possibile inizieremo con una gara d'appalto e inizieranno i lavori che, come abbiamo fatto anche per le altre strutture, gli altri interventi realizzati nelle nostre realtà, verranno seguiti e fatto sì che vengono effettuati in tempi brevi. L'edificio ospiterà un nuovo centro residenziale di cure palliative per l'assistenza ai malati terminali, cosiddetto hospice con l'obiettivo di garantire l'accesso degli utenti alla rete delle cure palliative, mirata al controllo del dolore fisico e di tutti i sintomi che sono propri della malattia. L'ospice racchiuderà quattro livelli e precisamente le quattro principali aree che sono residenziale, generale di supporto, operativa ed una dedicata alla valutazione e terapia. Saranno otto le camere di degenza in grado di accogliere anche gli accompagnatori. Precisamente sono due camere doppie e sei singole per complessivi dieci posti letto. L'ospice vivrà un'importante operazione di restauro scientifico, di recupero, ristrutturazione, oltre che di miglioramento dell'efficienza strutturale attraverso l'importante azione di adeguamento sismico, essendo l'immobile in uno stato gravissimo di conservazione ma anche fortemente danneggiato dagli eventi sismici risalenti al 2016 e seguenti.